Siamo ritornati in un nuovissimo video Ok ragazzi come vedete Questo qui E' un baule magico Che ho trovato ieri ragazzi Facendo una partita Ora vi faccio vedere la partita Aspettate una ragazza Andiamo a vedere Siamo rivediamo se c'è ancora Ecco qui No ragazzi non si può vedere la partita Ecco qui Vittoria Vittoria Più 24 trofei Questo era il suo Il mio era frecce Il mio era frecce Minipecca Bombarolo Barile de Cobri Baby Drago Arcieri Cobri Lancieri E Barbari Il suo era Cobri Lancieri Barile de Cobri Grazo Valchiera Moschettiere Barbari Principe E Arcieri Ok ragazzi Sono appena andato in arena 4 Come potete vedere E mi manca La torre infernale La torre infernale La congelamento In fecca E poi logicamente Il massimo La leggenda Ragazzi Penso che non troveremo Niente In questo Baule Magico Perché è di arena 3 Sia era di arena 4 Potevamo trovare Anche la congelamento La torre infernale Il fecca O addirittura Però Magari Il mastino Ok ragazzi Andiamo subito A vedere Il mio deck Che sto usando E è Barile de Goblin Domatore Mongolfiera Frecce Ehm Scheletro gigante Bombarolo Goblin E Goblin Lancieri Che potrò migliorare Però Ora non ho soldi Nel negozio Ci sono Gli sgherdi Una torre bombardiera E la strega Ragazzi Mi è uscito questo Però questo È di arena 4 Ragazzi Ecco qui Allora ragazzi Ho 45 gemme Sono di livello 7 380 Di oro E c'era Faccio vedere Anche il mio clan Leggendo Doniamo Per salire Un po' di livello E prendere Qualcosa Di solito Vediamo Se qualcuno Vuole fare Qualc'è Un video Nel frattempo Richiediamo O Che Richiediamo Ok Domatore Non c'è Nessuno Ragazzi In questo Grand E Ok Ragazzi Questo Video Può finire Qua Lasciate Un like Iscrivetevi Al canale Condividete Se il video Vi è piaciuto Ci vediamo Nel prossimo video Bella raga Prrrr 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 Prrrr